Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 aprile è scomparsa Paola Gassman, nota attrice italiana e figlia di Vittorio Gassman. L'interprete italiana, tra le più amate e famose del nostro paese, si è spenta a Roma all'età di 79 anni. A causa di un problema di salute ancora ignoto, dopo una vita trascorsa sui palcoscenici ma, soprattutto, una relazione di ben 56 anni con l'altro amato attore Ugo Pagliai. I due erano inseparabili, la dimostrazione che l'amore eterno, quello di altri tempi, non è un'utopia ed esiste davvero. Proprio Pagliai, intervistato da Il Corriere della Sera, ha ricordato la compagna di una vita. Più di mezzo secolo trascorso felicemente, ha raccontato l'attore, lei ed io, sempre vicini, un vero record. Ci legava non solo uno sconfinato amore, un forte calore, ma soprattutto una sconfinata stima reciproca. Parole toccanti, strazianti, quelle di Ugo Pagliai che ancora non ha chiara la vera causa della scomparsa di Paola. L'attrice accusava sintomi acuti e sospetti, sono partite subito le visite mediche per scoprire l'origine di quei problemi ma Paola Gassman, ad un certo punto, si sarebbe rifiutata di fare ulteriori accertamenti. A raccontarlo è sempre Ugo Pagliai che ha poi aggiunto. Ammetto che provo un senso di colpa, avrei dovuto obbligarla a procedere con le analisi, non l'ho fatto per rispettare la sua volontà. Le dissi ti voglio bene come mia ultima frase, lei mi ha risposto solo Ugo. Ma in quell'Ugo c'è tutta la nostra storia insieme. Grazie a tutti.